Io vi invito di tenere monitorato le prossime dieci acquisizioni e fatto una X tutte le volte che prendete un incarico. Vi dico mediamente, chi arriva in formazione con me all'inizio o come ero io all'inizio, il coefficiente di chiusura è circa il 20%. Quindi facevi dieci acquisizioni e ti portavi a casa due incarichi, ok? Allora, nel mio caso specifico, attraverso il mio processo di acquisizione, i vari step, l'invio del materiale, di marketing online, offline, una listing presentation coinvolgente emotivamente, eccetera, eccetera, il mio coefficiente di chiusura è 85%. Ma ci sono dei miei studenti che sono diventati più bravi di me, chiudono al 90%, ok? Per cui, questi sono i due fattori. Qua, mi raccomando, che l'ha sempre foraggiata, non ci sono 14 fonti di ricerche che insegno e non so quali fai tu.